nel cuore di Roma. Allora stiamo parlando di alberi, di alberi che cadono ma con gli esperti stiamo anche cercando di capire cosa si può fare perché questo non accada per mantenere un patrimonio che è straordinario che Roma ha ma ci sono anche esperienze dei cittadini. Per esempio Francesca Dell'Orco è una dei tanti componenti di Retech Roma, in questo caso del terzo municipio, nel suo caso del terzo municipio. Voi avete addirittura portato avanti progetti per aggiungere alberi al patrimonio romano? Sì assolutamente sì, diciamo che il nostro non mi sento diciamo di danno e rumen esatti, però io lo so, lo dico. Sembra che a Torraccia ne abbiano piantati addirittura 200 e comunque ne hanno piantati anche nella zona di Valcannuta grazie diciamo a degli sponsor che ci aiutano. Perché c'è un costo in questo. Sì esattamente diciamo che noi andiamo a ripiantumare, il nostro core business non è quello di ripiantumare ma soprattutto di fare segnalazioni dove ravvediamo delle pericolosità. Quindi ci raccordiamo moltissimo con gli organi competenti per fare in modo che non accadano. Quello che è interessante e importante è che dei cittadini si mettono insieme, trovano gli sponsor e piantumano degli alberi. 200 è la cifra di cui siamo a conoscenza ma il progetto chiaramente va avanti. I progetti diciamo vanno avanti, le essenze vengono scelte sempre in raccordo diciamo con le istituzioni e soprattutto gli alberi vengono piantati dove ci sono delle comunità sociali che se ne possono prendere cura. E questo è un tema che affrontiamo però subito anche. Ringrazio Francesca Dell'Orco con Maurizio Gubbiotti che è il presidente di Roma Natura. Perché Maurizio? Perché sta per partire un progetto della regione per cui ci saranno quanti milioni di alberi che verranno piantati in tre anni a Roma? 6 milioni di alberi, 13 milioni di euro stanziati, 3 milioni per l'educazione ambientale, quindi un intervento di piantumazione molto serio che vuole fare un po' la differenza sia dal punto di vista della vegetazione, dell'importanza di questo verde ma anche dal punto di vista della manutenzione. Quindi un progetto finalizzato anche ad approcciarsi in maniera diversa a questo bene. 6 milioni di alberi, un numero altissimo ma un numero significativo. A che cosa è legato? Beh, legato al numero di abitanti del Lazio, è abbinato ad una campagna mondiale e del nostro paese più forte che nasce anche dall'enciclica di Francesco e sicuramente una sfida sulla quale misurarsi molto bene. È evidente che al centro di questa operazione della regione Lazio ci sarà il sistema dei parchi regionale del Lazio ma poi il valore aggiunto sarà per le nostre città. Allora, verranno piantati in ospedali, scuole, università in prima battuta, poi si cercherà anche ovviamente di mantenerne la manutenzione per i primi anni che sono molto importanti. Allora chiudiamo soltanto dando dei numeri che sono quelli del patrimonio degli alberi a Roma. Beh, un patrimonio particolarmente importante, 1700 specie vegetali che sono presenti in questa città ma soprattutto, come dire, migliaia e migliaia di ettari, questa è la città più verde d'Europa, come dicevamo prima, 80.000 ettari di territorio, un terzo di questa città che è coperto dal verde. E chiudiamo allora così, guardate Roberta, con le immagini di questa villa che è Villa Paganini, qui ci sono pini che hanno più di 60 anni e hanno un'altezza che supera i 25 metri, insomma parliamo veramente di un tesoro straordinario che nessuna capitale europea ha e quindi dobbiamo capire qui come fare per mantenerli e in questo modo anche segnare una strada per le altre città d'Europa che sono anche loro alle prese con il problema della manutenzione. Dal traffico di Via Nommentana vi salutiamo, a tutti una buona giornata.